I miei pensieri sono che non si vive di passato, bisogna essere bravi a vivere il presente per preparare al meglio il proprio futuro, quindi le belle sensazioni rimangono, le immagini che abbiamo tutti quanti negli occhi le abbiamo anche nel cuore, però dobbiamo dimenticarle, farlo in fretta, sintonizzarci immediatamente su una lunghezza d'onda diversa, sarà un campionato molto diverso, le nostre richieste dovranno essere molto diverse, dovremo essere molto autoesigenti per essere dentro a questo nuovo campionato. C'è una parte di giocatori che sono stati con noi nella scorsa stagione, ben sei, abbiamo completamente rinnovato il pacchetto dei playmaker, a Davide Casarin che già era con noi si sono aggiunti Alessandro Cappelletti e Matteo Imbrò, direi che sono tre giocatori molto complementari per caratteristiche anche fisiche, anche se poi ciascuno di loro può spaziare anche nella posizione di guardia. Abbiamo tre guardie, Carvel Anderson che conosciamo tutti molto bene, è un giocatore che è stato per noi una chiave nella scorsa stagione per la sua capacità di essere soprattutto clutch nei momenti importanti. Wayne Selden che è un giocatore nuovo, nuovo anche per il palcoscenico italiano, è un giocatore che ha pedigree ma che in Europa deve consolidare la sua carriera e soprattutto ha la possibilità di sfondare in modo definitivo nel palcoscenico europeo, è un giocatore che può giocare a cavallo dei due ruoli di ala piccola e di guardia. Poi abbiamo Liam Udom che è ovviamente un giocatore con zero partite in A1 quindi per lui sarà a sperimentare ogni giorno un livello che è improvvisamente salito, ha vinto il campionato di B, ha vinto il campionato di A2, si trova a giocare in A1 quindi non sarà facile ma è un giocatore che ha i numeri per provare a stare in questo campionato e a crescere giorno dopo giorno. Abbiamo quattro ali, Guido Rosselli il nostro capitano, Alessandro Ferrari un ragazzo giovane 19 anni come Davide Casarin che starà con noi a fare un vero e proprio stage di pallacanestro dopo che si è misurato già con la pallacanestro dei grandi nel corso della scorsa stagione in Serie B a casa sua e poi le due ali americane Xavier Johnson sappiamo quanto è stato coinvolto emotivamente nella parte finale della stagione quanto è stato bravo a stringere i denti in un momento complicato per la squadra giocando anche al di là delle sue problematiche fisiche ma al di là di questo non c'è riconoscenza c'è solo da riconoscere invece il valore del giocatore che potrà darci tanto anche nel campionato di A1 e poi c'è Harry Coleman che è un'altra delle nostre quattro ali, un giocatore che può giocare anche da centro anche lui come Selden dovrà consolidare la sua carriera sul palcoscenico europeo ha giocato un anno in Germania in una squadra importante, ha avuto anche esperienze di competizioni internazionali giocando l'Euro Cup però ecco nella prima stagione nella quale avrà un ruolo molto importante all'interno della nostra squadra, ripeto a cavallo del ruolo di Alaforte e di centro e poi abbiamo i due centri che sono due giocatori diametralmente opposti, uno grande grosso e tiratore come Francesco Candussi che è stato un po' la chiave dei nostri playoff della scorsa stagione e che sarà chiamato a rinverdire un po' i fasti del suo passato di A1 ha giocato una trentina di partite in A1 con Pesaro e dopo tanti anni di A2 si ripresenta al campionato della massima serie e invece Tyler Smith che è un giocatore molto esperto che ha girato un po' per tutti i parquet d'Europa giocando spessissimo, anzi quasi esclusivamente in prima divisione e risultando un giocatore che fa dell'eclettismo, della versatilità, dell'intelligenza cestistica il suo cavallo di battaglia, gli chiederemo esattamente questo cioè di portarci quell'esperienza maturata in quasi 200 partite nelle stagioni di prima divisione nazionale in Europa, oltre alle partite giocate in Euro Cup e in Europe Cup, quindi due giocatori molto diversi che però avranno la possibilità secondo me di dare il giusto completamento al pacchetto dei lunghi. Non lo so perché i giocatori vanno visti in campo, soprattutto i giocatori nuovi, quindi non tanto Tyler Smith che è un giocatore, Tyler Smith che è un giocatore che tutti quanti conosciamo molto bene, che ha già giocato anche nel campionato di A2 ma soprattutto con un vissuto cestistico europeo molto lungo nel tempo, secondo me dovremmo invece scoprire molto bene quelle che sono le armi a disposizione sia di Selden che di Holman e da questi due giocatori cercare di capire poi quale può essere la struttura migliore dal punto di vista sia della metà campo offensiva che della metà campo difensiva. È chiaro che è una squadra che come caratteristiche sembra una squadra che può correre perché ha anche nei palleggiatori e nei playmaker giocatori che possono giocare ad alto ritmo, una squadra che può giocare anche nei primi secondi, una squadra che deve giocare sull'eclettismo dei suoi giocatori base ma soprattutto che deve mantenere qualcosa che dallo scorso anno ci dobbiamo portare dietro, cioè una solidità difensiva senza la quale si va poco lontano e un controllo dei tabelloni che per il mio modo di pensare pallacanestro deve rappresentare un elemento fondamentale. Ma gli obiettivi sono facili, noi dobbiamo salvarci, non è che dobbiamo fare grandi giri di parole o fare grandi voli pindarici. Come lo vedo, vedo un campionato che secondo me ha mantenuto l'alta qualità che aveva nelle passate stagioni nella parte alta della classifica, è chiaro che Milano e Bologna sono due squadre che giocano in Eurolega e che giocheranno in Eurolega per fare i playoff, quindi si capisce già che tipo di struttura potranno portare sul campo, sono squadre formate da 15, 16, 17 giocatori. Secondo me il livello medio si è alzato, soprattutto il livello basso si è alzato, perché mi sembra che ci sarà una decina di squadre che giocheranno per i playoff, 10, 11 squadre che giocheranno per i playoff e 5, 6 squadre che invece dovranno combattere fino all'ultimo secondo per evitare le ultime due posizioni. Poi è chiaro, i campionati sono sempre tutti da scrivere, quindi può essere che qualcuna di quelle che magari parte con ambizioni più moderate possa essere invece una squadra sorpresa e magari una di quelle che invece parte con i favori del pronostico fra quelli che devono entrare nei playoff possa fare un campionato di maggiore sofferenza, ma questa è un po' la storia di tutti i campionati di basket, sia di A1 che delle altre categorie. Molto tradizionale, nel senso che dobbiamo pensare prima alla parte fisica, oltretutto abbiamo due giocatori che sono Rosselli e Johnson, dei quali dovremo verificare le condizioni, perché non ci dimentichiamo che sia Guido è reduce da un controllo ortopedico che riguardava al suo ginocchio, sia Xavier che invece è reduce da un intervento alla mano, sappiamo tutti che ha giocato l'ultima partita con una mano fratturata e quindi intanto dovremo partire dal verificare le condizioni di questi due giocatori per capire se saranno immediatamente abili e arruolabili. Dovremo capire le condizioni di tutti quanti e dovremo cercare di lavorare sia come gruppo che come individuo per uniformare e omogenizzare al più presto lo stato di forma della squadra. Nel ritiro di Madonna di Campiglio dovremo cominciare invece ad impostare la parte offensiva soprattutto, ma anche un'infarinatura della parte difensiva. Dovremo cercare di diventare squadra nel giro di 3-4 settimane, il che significa la settimana del ritiro e la settimana successiva, se Dio vuole e non ci saranno problemi, credo saranno le due settimane più importanti dal punto di vista della costruzione. Poi ci sarà da giocare, anche da giocare tanto e anche da giocare partite con squadre di alta qualità. Questo ci aiuterà a entrare immediatamente in sintonia col campionato. Ma allora, sicuramente senza dover usare delle parole troppo scontate, l'entusiasmo dovrà essere un po' il nostro punto di forza, perché una squadra che vince il campionato, lo vince senza aspettarselo, lo vince nel modo in cui lo abbiamo vinto noi, con un crescendo di presenza di pubblico, con un trasporto da parte del pubblico importante, deve ripartire da quello. E secondo me, e sapete che io non liscio il pelo mai a nessuno, secondo me l'entusiasmo invece è stata la chiave perché quest'estate fosse questo tipo di estate. Perché la famiglia Pedrollo, il nostro presidente Giorgio Pedrollo, andassero un po' pancia a terra, si lanciassero un po' pancia a terra in questa avventura che non era un'avventura preventivata, quindi non era facile entrare subito in sintonia anche dal punto di vista finanziario. Ringraziando loro che hanno fatto un grande sforzo, ringraziando il nostro main sponsor che ha fatto anche lui un grande sforzo e che probabilmente ha visto un po' premiata la sua resilienza nel rimanere attaccato a questi colori e a questa squadra e venendolo premiato portando il suo marchio nei palazzetti italiani importanti, il pool di sponsor che si sono consolidati intorno a noi e che ci hanno permesso di costruire una squadra competitiva per quello che deve essere il nostro obiettivo e vi assicuro che non era scontato. E ovviamente non ultimo l'entusiasmo della gente che si è verificato, si è consolidato, si è immediatamente riconosciuto nel numero degli abbonati, nel fatto che ieri sono andato a chiedere due cacciaviti per montare la televisione e il mio vicino di casa si è scusato del fatto che non mi aveva ringraziato. Quindi piccole cose che però ti fanno capire quanto la gente sia stata e sia tuttora molto vicina e che l'onda della promozione sia stata un'onda ma che in qualche modo sia diventata un'onda lunga. Ecco, su questa onda lunga noi dobbiamo diventare bravi, essere bravi a surfare perché se saremo bravi a surfare probabilmente ce la porteremo dietro per tutta la stagione anche nei momenti difficili che è normale che in un campionato come questo ci saranno.